Vite Parallele, un progetto di Cascina Macondo, racconti e testimonianze di chi ha barcato la soglia del carcere, con il contributo dell'UBI, in partenariato con il centro Okuzenko. Media Partners, Corriere di Chieri, Fita, Italia che cambia, narrabilando Blogspot, Piemonte Mese. Se sei una radio o una testata giornalistica, puoi ancora aderire al progetto per diffondere le testimonianze pervenute. Testimonianza di Bruna Chiotti. Quello che pesa. Legge Silvia Restagno. Ho barcato la soglia di un carcere alcuni anni fa, come volontaria di un'associazione per gestire uno sportello sociale per pratiche pensioni, disoccupazioni, eccetera, e poi come garante comunale per i diritti dei detenuti per cinque anni. Ho incontrato una umanità dolente, rassegnata, arrabbiata, fiduciosa, incattivita, altruista, impaurita, silenziosa, speranzosa, creativa. In altre parole, ho incontrato l'uomo in tutte le sue debolezze, ma con una grande volontà di riscatto. Ho visto piangere un anziano detenuto, al quale venivano negate ogni possibilità di far valere i propri diritti. Ho incontrato persone con venti, trent'anni di carcere sulle spalle e con fine pena mai, ma ancora con la speranza di vedere la propria casa e di tornare liberi. Mi rimasto impressa la storia tra tante di un detenuto condannato all'ergastolo ed entrato in carcere a vent'anni. Mi raccontava che conosceva solo il quartiere dove era nato e cresciuto e che tra bande rivali sopravviveva chi sparava per primo. Mi disse che il carcere l'aveva salvato ed era riconoscente alla scuola interna che gli aveva permesso di studiare. Ho incontrato un capo mafia già anziano e con oltre trent'anni di pena scontata che si è laureato in carcere, in sociologia e che nei giorni di permesso svolgeva volontariato in una struttura per anziani. Ho conosciuto un detenuto che negli anni ottanta faceva parte delle brigate rosse a tempo pieno e prima ancora fu rapinatore e gangster. Non ha mai rinegato le sue scelte sbagliate, anche se era molto critico verso se stesso, al punto di scrivere un libro sulla sua cattiva strada. Ora lavoro in una cooperativa sociale, come volontario, e continuo a scrivere le sue memorie. Nessuno rivendicava il proprio passato. Anzi, c'è quasi una rimozione e c'è invece una ferma volontà di guardare avanti, senza voltarsi indietro. Ho incontrato persone con grande dignità e voglia di riscatto, chiedendo di lavorare perché il lavoro dà dignità. Mi hanno detto che gli anni passano, ma la giornata è lunga e il senso di solitudine e la nostalgia della famiglia è devastante. Per sopravvivere è indispensabile mantenere il rispetto di sé e la propria dignità di uomo, anche se dentro pesa una fragilità nascosta, mascherata da atteggiamenti anche aggressivi o con ostentata sicurezza di sé. Ma quello che pesa per un detenuto è l'indifferenza di chiunque varca la soglia del carcere, perché un saluto, una stretta di mano, un colloquio, possono dare senso alla giornata, a quel tempo infinito, che isola fisicamente e socialmente e che distrugge psicologicamente una persona, anche colpevole di reato, ma pur sempre una persona. Avete ascoltato chi ha varcato la soglia. Testimonianza di Bruna Chiotti. A letto Silvia Restagno.